Salve amici della strana coppia, questa volta siamo in versione IEB perché vi vogliamo mostrare un'intervista a doppi A Bombazza amici, ci hanno detto che questa, questa casa qua Salve amici della strana coppia, siamo arrivati qui a Santa Giusta Sei in diretta Iva eh, Iva mi senti, sei in diretta Scusami, stavo un attimo comunque so Ecco Iva, allora perché non ti avvicini da quella ragazza che c'è dietro Così allimente chiedi a lei E signorina, sei con la cera? Per quanti di voi che non sanno che di andare questa settimana abbiamo preso lezioni Vi faremo, cioè faremo una piccola esibizione per voi E signorina, sei con la cera? Iterni bambi, sei con la cera? E signorina, sei con la cera? E a me? Yeah! E signorina, sei con la cera? Sta ferita? E signorina, sei con la cera? E signora, sei con la cera? Grazie a tutti. Grazie a tutti.